Il viceministro dell'economia Caravaglia ha avuto un invito a dedurre per tutto il danno e il radiale, il viceministro è presentato che la Lega dopo ripsi un altro caso. Che la Lega sia travolta da vicende che attengono alla questione morale non è notizia, la notizia sarebbe di chi ha improntato il proprio destino politico urlando e ingannando in parte politicamente onestà ponga fine al contratto di governo, per capire se i 5 Stelle sono più o meno allineati con la Lega anche sulla questione morale oppure hanno posizioni differenti, finora sono allineati, talmente allineati che il principale spin doctor di Matteo Salvini è Luigi Di Maio, non so se sia stato assunto formalmente ma sicuramente è il più grande spin doctor di Matteo Salvini.